Scende il sipario sulla 42esima edizione della Sagra della Porchetta di Campli. Evento conclusivo la premiazione di ieri sera, 20 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II. Primo classificato il porchettaio Salvatore Di Angelo, secondo Emilio Falasca, e sul gradino più basso del podio, in pari merito, Luciano Mercuri e Fulvio Pallotta. Il vincitore è stato scelto e votato da tre giurie tecniche composte da enologi, giornalisti, cuochi ed esperti, ed infine da una giuria popolare di 24 elementi. Ai vincitori i trofei offerti da Europubblicità, dalla provincia di Teramo, dalla Proloco e al primo classificato in particolare è consegnato un originale coltello sulla cui lama è impressa l'effigie del Museo archeologico nazionale di Campli, offerto dal museo stesso. A Salvatore Di Angelo è stato inoltre consegnato il premio della critica, intitolato al presidente storico della giuria Nicola Natali, venuto a mancare lo scorso anno. Una targa in ceramica di Castelli, impreziosita dallo stemma ufficiale della Sagra. Fino al prossimo 28 settembre rimarrà attiva la mostra Pastori e Macellai, lame e utensili della tradizione, presso il Museo Nazionale archeologico, che consentirà di conoscere lame e utensili della tradizione locale, legata all'attività dei porchettai e dei lanaioli camplesi.